Amato pubblico, bentornati sul canale e benvenuti a un nuovo gameplay su World of Warships. Oggi ci andiamo a giocare la corazzata premium di livello 8 francese, la Picardy, o come si pronuncia. È una nave particolare, entrerò nel dettaglio durante il gameplay. Vediamo subito le sue caratteristiche, abbiamo esattamente 53.400 punti, protezione siluro, riduzione di danno 17%, cannoni principali da 305 e cannoni secondari da 130. Incursionere per attaccare i sommergibili fino a 10 km, difesa contraria, un valore di 176 al continuo, 1.544 alle esplosioni, ne abbiamo 5, manovrabilità 28.4, mimetizzazione, veniamo spottati a 11.3 km. Mettete tutte le bandierine che vedete, qualora fosse possibile, e per quanto riguarda i potenziamenti, sinceramente io ho optato per dei potenziamenti che sinceramente tutt'oggi non mi convincono, però le prove sono ancora aperte. Batteria secondaria modificata 1 preferita, sistema di puntamento modificata 1 per cercare di, non dico massimizzare perché sarebbe un parolone che non si può dire, però per permettere alle secondarie appunto di arrivare a 11.5 km, piccolo spoiler, non servono a nulla. Per quanto poi riguarda invece la quarta slot, la propulsione, se mi conoscete e mi seguite, non può mancare. Abbiamo poi come consumabile incremento di velocità di ricarica batteria principale, capitano speciale obbligatorio, fino a un certo punto potremmo attivare il talento sfrenato, e ancora il talento furia elementale e ancora balzo in avanti. Possiamo attivare tutto. Sono delle skill che sinceramente il primo capitano di altre navi che era pronto l'ho preso e l'ho meso, cioè solitamente il capitano speciale lo tengo sempre su altre navi a disposizione, quindi non ci ho pensato più di tanto a quello che stavo utilizzando. Fatto sta che abbiamo le secondarie aumentate, abbiamo inoltre esperto di demolizioni, rinvigorimento, scarica di adrenalina e ancora esperto delle riparazioni di emergenza e in ultima analisi esperto di occultamento. È un capitano così impostato, considerando anche potenziamenti abbastanza errato, sarebbe più corretto dare dei vantaggi all'armamento principale. Ci tengo a sottolinearlo, quindi vedremo una nave in azione che non è al 100%. Per quanto poi riguarda i bonus economici, abbiamo esattamente questi blu e poi il verde nella prima slot e come mimetica non può mancare l'immancabile cartografia, eccola qui, fantastica, e ovviamente le Jolly Rogers. Ragazzi, mi raccomando, con un mi piace, carichissimi, andiamo a vedere una partita con la corazzata francese. Vamos! Siamo pronti a vedere una partita giocata con la nostra corazzata di livello 8 premium francese. Vediamo subito che siamo in una mappa, due sorelle, modalità supremazia, navi anche di livello 10, una portaerei, cinque corazzate, tre incrociatori, due cacciatori perinieri e un sommergibile. Allora, dobbiamo subito dire un paio di cose. Prima di tutto, questa nave, non l'avete già vista da qualche parte? Qualcosa di simile, di livello più basso, sempre francese? Eh sì, è proprio lei, è la Lyon. O per meglio dire, una specie di Lyon a livello 8, che anziché montare i 340 come canoni principali, monta i 305. Ha una probabilità di incendio inferiore rispetto ai 340 della Lyon. Abbiamo punti vita pressoché simili, però dobbiamo anche dire un po' di differenze, ovvero il fatto che qui abbiamo la ricarica dei cannoni, abbiamo accesso a una slot aggiuntiva dei potenziamenti, perché appunto siamo una nave di livello 8, e poi essenzialmente il resto è vagamente uguale. Anzi, se non peggio, perché comunque noi giochiamo a livello 8 contro magari la nave non premium che gioca a livello 7. Quindi subito possiamo notare delle differenze abbastanza importanti anche nette. Già solo il livello basterebbe per alzare le mani, perché essenzialmente questa nave non è fantastica, mi verrebbe a dire praticamente nulla. Forse il punto di forza, se proprio volessimo trovarne uno, il fatto di poter sparare con 16 cannoni a distanza di breve tempo, dato che possiamo utilizzare il nostro consumabile. È una partita, ragazzi, molto complicata. L'abbiamo giocata in live sul mio canale YouTube. Tra l'altro le live sono state spostate da venerdì a lunedì alle ore 15 per chi fosse interessato. Per chi dovesse perdere le live, comunque non vi preoccupate, perché appunto rimarranno disponibili, come sempre, nella mia sezione di YouTube. Quindi potete godervele in qualsiasi momento della giornata, quando desiderate, in compagnia o da soli. Altre cose... No, in realtà mi trovate anche in difficoltà, perché solitamente quando faccio l'analisi delle navi ho tante cose da dire. No, ragazzi, ci sono tantissime cose da dire, non so se il tempo mi basta. Con questa nave direi che vi ho già detto tutto nei primi 60 secondi di gioco. Quindi sarà più che altro una chiacchierata tra me e voi e vi parlerò anche un pochino del più e del meno. Cosa molto importante, comunque, come vi dico sempre, al netto che la nave possa essere buona o non buona, di livello superiore o inferiore, cercate di non sottovalutare la situazione che si fa a creare in mappa. Alleate e nemici, stiamo avanzando, stiamo vincendo, stiamo in difficoltà, ok? Qui l'analisi che bisogna fare è abbastanza... Un'analisi che possiamo tirare è abbastanza chiara, nel senso che noi stiamo spingendo abbastanza bene sul settore di destra, proponiamo quattro navi e c'è un Minotaur che si sta infiltrando dietro le linee nemiche. Tra l'altro, concedetemi 60 secondi ulteriori per dire una cosa. In questa mappa specifica, due sorelle, vedo spesso e volentieri dei giocatori andare in mezzo alle due isole. Ora, dal mio punto di vista, per la mia esperienza personale, da quello che ho potuto vedere dalla beta di questo gioco, con 17.000 partite e oltre all'attivo, vi posso dire che quella zona è estremamente pericolosa. È estremamente pericolosa che non vuol dire che non bisogna mai andarci, però bisogna valutare caso per caso, minuti per minuti. Di certo, pronti via, la partita inizia, non mi vado a mettere in mezzo all'isola. Uno perché comunque non potrei sparare a nessuno, ho due isole giganti e poi, in primo luogo, i nemici potrebbero, quantomeno, prendermi di mira con una porteria se è presente e non avrei possibilità di scappare perché ci sono le isole. A partita iniziata potrebbe aver senso. Magari parliamo metà gioco, fine gioco, allora sai, devo tagliare la Charlie Supra anziché fare tutto il giro, vado per l'isola. Poi ovviamente, ragazzi, siete liberi di fare e pensarla come volete. Questa, ripeto, è in base alla mia esperienza di gioco. Come vedete qui, quello che sta succedendo comunque, è che stiamo evitando fondamentalmente i colpi della Conqueror, della Ruggero, c'era il Minotaur che ci innaffiava, c'era la Minnesota che dava fastidio. Abbiamo provato qualche minuto fa il tiro sul cacciatore periniere in D4, un po' forzato quel tiro, però avendo poco capito ho detto ci devo provare perché la cosa più brutta che può succedere è che magari si va a salvare. C'è anche un sommergibile, attenzione, cercate di rimanere sempre operativi nei confronti del sommergibile, anche se la sagoma magari non è chiara, non sapete perfettamente dove si trova, però noi sappiamo vagamente che in quella zona c'è la minaccia sottomarina e quindi potremmo chiamare, potremmo decidere di chiamare delle cariche che potrebbero andare a segno. Se la situazione, vedete che è peggiora, che non c'è modo di pushare, perché qui ovviamente, ragazzi, è matematica come cosa, è palese, anche se avete scaricato il gioco da poco, notate sempre le navi che avete davanti, ok, corazzate di livello 10, noi cosa abbiamo? Una corazzata che è la nostra, male che dovesse andare, cioè come facciamo ad affrontare delle navi di livello superiore senza un plotone per giunta, quindi non si può avanzare, non si può vincere su alfa, dobbiamo avere un atteggiamento piuttosto in qualche modo difensivo, ragion per cui sto cercando di tornare indietro e di salvare la pelle e la nave. Anche perché dobbiamo dircela tutta, è vero che la nave in qualche modo, tra virgolette, non ha senso, però avete pur sempre 16 cannoni, porca miseria, quindi qualcosa, quando decidono di funzionare a dovere, effettivamente potrebbero dire anche la loro, anche se qui andiamo a fare tre perforazioni, un eccessivo e due rimbalzi, della serie e gli altri colpi dove sono caduti, che stava virando, però voglio dire non è che abbia tutta questa grande precisione, anche perché parliamo di un Sigma, da quello colletto che ricordo di 1.5 della serie, che cosa potremmo mai colpire, considerando inoltre che la nave è stata settata a secondaria, ma non per la mia volontà, semplicemente perché come ho detto all'inizio, questo capitano è un capitano preso da un'altra nave francese, e quindi per velocizzare il processo di streaming, ho detto sai che c'eri buono, lo proviamo così, spesso e volentieri è una cosa che faccio, soprattutto con navi di livello 8, perché mi sono abituato a giocarle un pochino in tutti i modi, questo per dire cosa che ovviamente la precisione dei cannoni, si potrebbe leggermente aumentare, mettendo il potenziamento, ma non andremo a migliorare chissà quanto, chiusa parentesi. Per quanto poi riguarda la portaerei, molto attenta sulla Conqueror, come vedete noi in 9 minuti abbiamo fatto relativamente pochi danni, 54.000 danni sono pochi, tra l'altro potremmo anche analizzare questo dato, ho alternato uno sparo ad AP ad uno sparo HE, bassa probabilità di penetrazione dato del calibro 305, bassa probabilità di incendio con le HE, quindi come sparate e sparate diciamo che non avete molta possibilità di far danno, a meno che, ripeto ancora una volta, i 16 cannoni non decidano di andare tutti quanti nella stessa direzione. Non abbiamo dei potenziamenti particolari, tranne la ricarica dei cannoni che è particolare sì, però poi ci limitiamo ad avere una semplicissima riparazione, poi il tasto R, quindi recupero vita e riparazione. In maniera molto chiara e netta direi che questa nave non deve essere preferita rispetto alle altre, cioè se abbiamo sulla bilancia una Tirpitz e una Picardie, questa qui, sicuramente andremo sulla Tirpitz, ma anche su altri, potremmo fare tanti paragoni, penso che questa sia, se non l'ultima scelta, forse la penultima scelta di tutte le corazzate messe insieme a livello 8 premium, ma in generale come nave premium è un qualcosa che ti lascia un pochino, ti lascia un pochino con l'amaro in bocca, non ti dà nessuna sensazione positiva, è una nave che personalmente manca di personalità. Potremmo riassumere in questo modo? Forse la stiamo, la sto demolendo un po' troppo con le parole, però vi posso assicurare, siccome non è la prima volta che la gioco, che le difficoltà ci sono. Da apprezzare però quando attiviamo il consumabile, lo ripeto di nuovo, un... Sparare 32 cannoni in breve tempo, comunque sono pur sempre 32 cannoni, ok? Quindi è l'unica cosa che mi sento di sottoscrivere in maniera piuttosto convinta. Farò finta di non vedere, anche se ve lo devo dire, le navi che si sono, non so per quale motivo, messe in A7. Considerate che la Ruggero era sul settore di Alpha, poi è tornata da quella parte, e noi avevamo anche una Zao, se ricordo bene, buttata lì. No, non c'era una... La Yodo forse era. Va benissimo lo stesso. Noi qui stiamo cercando in qualche modo di prendere tempo, perché è vero che dobbiamo andare in difesa, quindi dobbiamo indietreggiare, però cercate di farlo in una maniera piuttosto leggera. Cioè non fate avere una pushata al nemico troppo rapida, perché altrimenti poi ci sarebbe un capovolgimento di fronte che magari la squadra non è in grado di sostenere, quindi ragion per cui cercate sempre di rimanere un minimo operativi con i cannoni e magari guadagnare qualche secondo. Ovviamente la gravità della situazione dipende appunto dalla situazione complessiva della squadra. Tra l'altro, ora non ricordo se il danno... Mi sa di sì. I punti dovrebbero essere invertiti. Non ricordo molto bene. Purtroppo, ragazzi, questo è un problema non mio, ma è un problema della Wargaming che puntualmente ha i replay particolarmente buggati. Da apprezzare comunque un paio di cose ulteriori. Ovvero il fatto di avere la rotazione delle torrette a 360 gradi, quindi rimane molto operativa la nave. Qui andiamo a sparare, purtroppo, attenzione, con due torrette. Spariamo al Minotaur, praticamente dito medio, tre eccessive, una perforazione, di cui la cittadella è la perforazione completata con successo. Mi verrebbe da dire che se avessi sparato con tutti quanti i cannoni probabilmente avrei fatto il devastante, però con i sé e con i ma, come sappiamo, non si fa assolutamente nulla. So solo che mi ritrovo da solo ad affrontare una Minnesota che è una nave particolarmente fastidiosa di livello 9 premium, di livello 9 americana, normale, e poi il Minotaur, insomma, una nave di vecchia data. Cannoni ad alta cadenza, fanno molto male, è una nave fastidiosissima. Lui adesso, in qualche modo, tra l'altro il Minotaur non ho ben capito cosa sta facendo, perché ha un atteggiamento un pochino, come dire, mi rendo conto che non può pushare contro una corazzata. È vero che è buono, io sono una nave di livello 8, però gli posso pur sempre far male. Però forse è un po' troppo passivo in questa circostanza. Dovrebbe quantomeno provare... Non lo so neanche io giunto a questo punto. Non so neanche io quello che succede in partita. So solo che c'è un balao meravigliato che spunta in H3. So che il Minotaur, che era centrale, in qualche modo, non lo so come, è riuscito a venirne fuori da Bravo con i nemici che stanno scendendo, pronti a cappare Bravo e a cappare Charlie. La partita si infiamma in questo momento. Buttiamo giù finalmente l'incrociatore inglese e rimaniamo 4 contro 6. 122.000 danni. Sinceramente, a questo punto, se avessimo fatto anche un 130, un 140, ma anche un 150.000, penso che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Però nella prima fase di partita, come ho detto, siamo stati un pochino troppo a pensare a PHE e quindi ho perso veramente un po' di danno in quella parte lì. Dobbiamo pensare comunque a due cose. Attaccare la Minnesota con due ottimi rimbalzi e ad attaccare il sommergibile che stiamo ottenendo d'occhio. Ora, per il giocatore magari nuovo, un po' meno esperto gestire così tante cose potrebbe risultare quanto meno complicato perché dobbiamo pensare al ping, dobbiamo pensare ai siluri, dobbiamo pensare a quelli che scendono, dobbiamo pensare alla minesota, dobbiamo evitare il canone... Insomma, ci sono un pochino di cose da fare. Qui andiamo a prendere, purtroppo, un siluro che ci fa non poco male e ci dà abbastanza fastidio. Vi ricordo, tra l'altro, che la riparazione, quando avete la riparazione attiva, il nemico non vi può allagare, non può fare falla, non vi può dare incendio, né tantomeno vi può pingare perché siete protetti, appunto, dalla riparazione attiva. Ragazzi, se siete giunti fino a questa parte del video, mi fareste davvero un grande favore se commentaste... Poi, tra l'altro, qui abbiamo colpito la minesota, però se la prende il minotaur, è una kill che, personalmente... Cioè, il gioco, secondo me, doveva darla a me. Anche rivedendo la muviola, secondo me, il mio ultimo colpo era quello decisivo. Ok. Dicevo, se siete giunti fino a questa parte del video, per favore, lasciate un commento perché è anche un metro di giudizio per vedere quante persone, magari, arrivano a guardare il video fino alla fine. So che siete in tanti perché ho le mie metriche di YouTube personali, i miei dati a cui posso accedere solo io. Ecco, però, magari, con un commento aiutiamo anche l'algoritmo, lo stimoliamo per dare l'ultima spinta verso i 20.000 iscritti. Attenzione a questo passaggio, i siduri che arrivano, scende il Ragnar con i 152 che dà fastidio e evitiamo i siduri con un colpo di magia. Manco Harry Potter, ma zanna cara. Ok. Un saluto a Zeb. Spariamo. Tra l'altro, poi, quel video ha scatenato non mi immaginavo così tante, non polemiche, però tante reazioni. Poi ha commentato anche Zeb. Insomma, è un video che è andato abbastanza virale, però è quello che era il mio punto di vista. Un video diverso dal solito. Chiusa un'altra parentesi. Le secondarie, come avete visto, sono del tutto praticamente inutili. Qua succede, attenzione, l'inimmaginabile. Uccidiamo il Balau Meravigliau. Attiviamo la riparazione all'ultimo. Luci dà fuoco. Evitiamo gli altri siduri. Spariamo a Ragnar. Nel frattempo l'almirante era andato in J3. Le nostre secondarie praticamente sparano ogni 4.3 secondi e non beccano assolutamente nulla. La ragion per cui una configurazione del genere è assolutamente da evitare. Abbiamo rimbalzato i colpi della Wisconsin che ci ha appena sparato. Ecco perché poi uno si domanda arriva a questo punto del video e pensa allora tutto quello che mi hai detto prima non è vero perché rimbalzi quello e i viti siduri eccetera eccetera e poi andiamo quasi ad uccidere il Ragnar. Ciò nonostante a parte questa fase finale devo dire che la nave non è consigliata. La Kaga va a ramare la Wisconsin e sinceramente qui può succedere di tutto. Siamo rimasti 2 contro 3. Siamo saliti a 151. Siamo noi ad avere 900 punti ricordiamo questo dato importante. Poteva essere anche non voglio esagerare 180 forse esagero se dico 180.000 ma non è una cosa del tutto impossibile soprattutto perché abbiamo giocato per ben per 17 minuti. La nave l'abbiamo tenuta in acqua per 17 minuti contro navi di livello 10 contro navi fastidiose non con gli ultimi della classe e c'era anche il sommergibile a dar fastidio. Quindi qui mi permetto da dire ma con tutta l'umiltà del caso che magari l'esperienza un po' più di gioco ha permesso di arrivare fino alla fine della partita. Se non avessi optato per la ritirata strategica verso Charlie e poi risalire da G5 eccetera eccetera probabilmente saremmo morti magari in un punto come poteva essere lo stesso G1 perché stavano scendendo oppure magari in ritirata in G3 d'accordo cosa molto importante poi in chat ci facciamo i complimenti arriveranno dei più uno in partita che fanno anche abbastanza piacere anche se tecnicamente non hanno senso perché il più uno a livello statistico non dà bonus non dà nulla quindi è un parametro che lascia molto a desiderare cosa incredibile il Minotaur arriva a fine partita che aveva ancora una carica fumogena quindi è stato un gioco tra l'altro quello è un giocatore molto bravo l'ho visto da Wows Monitor sapeva quello che faceva e si è visto durante la partita perché è salito su Bravo è andato su Alpha è tornato a difendere Charlie eccetera eccetera sì era andato centrale fin da subito è stato un po' fortunato perché basta qualcuno che si posiziona lì appena tu esci ti one shot ecco perché in questa mappa ripeto di nuovo la posizione centrale secondo me è da prendere con le pinze anche quando magari avete il plotone beh abbiamo il plotone allora io metto il fu riscatta di non uscire più perché basta un cacciatore per liniere che vi lancia su lui lì dentro e vi secca a tutti quanti la partita viene vinta con non poche in qualche modo un po' di sospanze è stata una partita bella piena se l'avete visto e portiamo a casa comunque un risultato in crediti non del tutto soddisfacente però ricordate che avevamo il bonus verde ovvero il secondo se ricordo bene 151 e poi tutte queste cose colpi due colpi messi a segno pazzesco punteggio squadra secondo voi quanto abbiamo fatto non barate scrivetelo nei commenti 2435 purtroppo il minotaur ci ha fregato per soli 15 punti però noi abbiamo la nave di livello 8 molto brava la caga e anche l'almirante gli ho fatto il più uno perché è vero che ha fatto 1117 qualcuno potrebbe dire che non ha fatto nulla però non è morto e aveva anche una nave di livello 8 particolarmente fragile e pericolosa da utilizzare in questi contesti i danni che abbiamo fatto in partita rammarico per la kill sulla minisoda e sul ragnar è che vorrei andare così crediti levate le varie spese portiamo a casa quasi 800.000 puliti puliti se non avete esperienza di gioco non comprate questa nave e aggiungo anche qualora ci fosse l'esperienza di gioco è una nave personalmente che mi lascia ancora tantissimi dubbi quindi opterei per altre navi un pochino più efficaci e anche magari comuni per questo livello la classica Tirpitz o la classica Massachusetts per fare due esempi fra tutti però ecco andare su questa qui vorrebbe dire veramente darsi la zappa sui piedi ancora prima di sparare i primi colpi è una nave da collezionismo all'interno del gioco però se cercate l'efficacia di combattimento andare su altro ancora di più se siete nuovi all'interno di gioco ancora di più se non avete esperienza su World of Warships potreste fare veramente una fatica inaudita a far funzionare un minimo una nave di questo tipo ragazzi video terminato io come sempre vi ringrazio per i commenti e le visualizzazioni noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay ciao sto sudando fa caldissimo non so da voi ma qui si suda sto morendo ma qui si suda Grazie per la visione